Sono le due precise, quindi anche se sta entrando ancora un po' di gente, facciamo puntualmente il nostro lavoro. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Lettura D'Antis. Oggi, come sapete, leggiamo il canto terzo del Paradiso. Vedo che alcuni di voi, per fortuna, sono sopravvissuti al canto secondo, quello delle macchie lunari con cui vi ho torturati la settimana scorsa, quindi leggiamo il canto terzo noi superstiti. Come al solito si legge tutto di seguito e poi riprendo a spiegare. Faremo, come al solito, una pausa durante la quale potete inviarmi se ne avete i vostri dubbi sulla chat. Quel sol che pria d'amor mi scaldò il petto, di bella verità m'avea scoverto, provando e riprovando il dolce aspetto. E io, per confessar corretto e certo me stesso, tanto quanto si convenne, levai il capo a proferir più erto. Ma visione, apparve, che ritenne a se me tanto stretto per vedersi, che di mia confessione non mi sovvenne. Quali per vetri trasparenti e tersi, ovver per acque nitide e tranquille, non si profonde, che i fondi si è empersi, tornano di nostri visi le postille debilissi, che per l'imbianca fronte non viene men forte alle nostre pupille, tali vi dio più facce a parlar pronte, perché io dentro all'error contrario corsi, a quel che accese amor tra l'uomo e il fonte. Subito si com'io di lor m'accorsi, quelle stimando specchiati sembianti, per veder di cui fussa gli occhi torsi, e nulla vidi, e ritorsi lì avanti, dritti nel lume della dolce guida, che sorridendo ardea negli occhi santi. Non ti maravigliare perché io sorrida, mi disse, ha preso il tuo pueri il coto, poi sopra il vero, ancorlo pieno in fida, ma te rivolve come sole a voto. Vere sostanze son ciò che tu vedi, qui rilegate per manco di voto. Però parla con esse, e odi e credi che la verace luce che le appaga, da se non lascia loro torciarli i piedi. E io all'ombra che parea più vaga di ragionare, drizzammi e cominciai, quasi come un uomo cui troppa voglia smaga. Ho ben creato spirito che ai rai di vita etterna la dolcezza senti, che non gustata non si intende mai. Grazioso mi fia se mi contenti del nome tuo e della vostra sorte. Ondella pronte con occhi ridenti, la nostra carità non si arrapporte a giusta voglia, se non come quella che vuol simile a sé tutta sua corte. E fui nel mondo vergine sorella, e se la mente tua bensè riguarda, non mi ti celerà l'essere più bella, ma riconoscerai chi son piccarda, che posta qui con questi altri beati, beata sono in la spera più tarda. I nostri affetti, che solo infiammati sono nel piacere dello Spirito Santo, letizian nel suo ordine formati. E questa sorte che par giuco tanto, però ne è data, perché for negletti i nostri voti, e voti in alcun canto. Ondio a lei, nei mirabili aspetti vostri risplende non so che divino, che vi trasmuta dai primi concetti, però non fui a rimembrar festino, ma ormai uta ciò che tu mi dici, sicché raffigurar, me più latino. Ma dimmi, voi che siete qui felici, desiderate voi più alto loco per più vedere e per più farvi amici? Con quell'altrompe pria sorrisi un poco, da indi vi rispose tanto lieta, che arderpare ad amore nel primo fuoco. Frate, la nostra volontà qui è ta virtù di carità, che fa volerne sol quel che avemo, e d'altro non c'ha seta. Se disiasimo esser più superne, foran discordi li nostri disiri dal voler di colui che qui ne cerne, che vedrai non caveri in questi giri, se esseri in carità e qui ne cesse, e se la sua natura ben rimiri. Anzi, è formale ad esto beato esse tenersi dentro alla divina voglia, percuna fansi nostre voglie stesse. Sicché, come noi sem di soglia in soglia per questo regno, a tutto il regno piace, come all'ore che in suo voler ne invoglia. E in la sua volontà è nostra pace. Elle è quel mare al qual tutto si muove, ciò che la cria o che natura facce. Chiaro mi fu allora come ogni dove, in cielo e paradiso, et si la grazia del son moment, un modo non vi piove. Ma siccome elle vient su un cibo sazia, ed un altro rimane ancora la gula, che quel si chere di quel si ringrazia, così feci io con atto e con parola, per apprender da lei qual fu la tela onde non trassin fino a con, la scuola. Perfetta vita e alto merto in cielo, donna più su, mi disse, alla cui norma nel vostro mondo giù si veste vela, perché fino al morir si veghi e dorma con quello sposo che ogni voto accetta, che caritate a suo piacere conforma. Dal mondo per seguirla giovinetta fuggimmi, e nel suo abito mi chiusi, e promisi la via della sua setta. Uomini poi, a mal più che a bene usi, fuori mi rapiron della dolce chiostra, e Dio si sa qual poi, mia vita fusi. E quest'altro splendor che ti si mostra, dalla mia destra parte che si accende di tutto il lume della spera nostra, ciò che io dico di me di sé intende, sorella fu, e così le fu tolta di capo l'ombra delle sacre bende. Ma poi che pure al mondo fu rivolta, contro suo grado e contro buona usanza, non fu dal verde il cor, già mai disciolta. Questa è la luce della gran costanza, che del secondo vento di suo ave generò il terzo e l'ultima possanza. Così parlò ogni, e poi cominciò ave, Maria cantando e cantando vanio, come per acqua cupa, cosa grave. La vista mia, che tanto lei seguì o quanto possibile fu, poiché la perse, polselsi al segno di maggior disio, e a Beatrice tutta si converse. Ma quella folgorò nel mio sguardo, sì che dapprima il viso non sofferse, e ciò mi fece a dimandare più tardi. Allora, il canto si apre con un riferimento alla spiegazione che Dante aveva sentito immediatamente prima da Beatrice, vi ricordate sulla diversa natura formale, diversa che, scusate mi sto ripetendo, sulla diversa natura essenziale che diversifica il chiarore, la luminosità degli astri che Dante doveva per conto suo applicare al corpo della luna. E quindi il riferimento è appunto alla volontà di Dante di ringraziare questa spiegazione che lo ha illuminato. Quindi inizia quel sol che pria d'amor mi scaldò il petto, è una perifrasi per Beatrice chiaramente, cioè quel sole che per la prima volta mi aveva scaldato il petto d'amore, è un eco diciamo della vita nuova, dove Dante racconta appunto come da bambino Beatrice aveva destato in lui l'amore per la prima volta, di bella verità mi aveva scoperto provando e riprovando il dolce aspetto. Allora Beatrice mi aveva scoperto il dolce aspetto della bella verità provando e riprovando, cioè argomentando e contro argomentando, come abbiamo letto appunto la settimana scorsa. vedete che intanto il verbo scoprire mi aveva scoperto è preciso perché Dante in realtà questa verità ce l'aveva nascosta da una teoria erronea che Beatrice ha dovuto diciamo demolire prima di costruire in Dante la nuova verità e qui è importante insomma come il Dante scrittore nel ricordare questa spiegazione di Beatrice che riguarda la luminosità diversa dei corpi celesti al loro interno e anche tra di loro riguarda un grado diverso di bontà e una essenza divina diversa mette bella verità già dando per scontato che la bellezza corrisponde appunto alla verità in un modo platonico in cui il bene e il bello coincidono nella verità. Il fatto che questa verità bella abbia un dolce aspetto e poi vedremo che si giustificherà quando conosceremo le anime degli spiriti femminili che Dante troverà in questa luna. Allora Dante dice Beatrice mi aveva appena scoperto l'aspetto dolce della bella verità sull'origine dei corpi più luminosi di altri e io per confessar corretto e certo me stesso tanto quanto si convenne levai il capo a proferer più erdo cioè Dante si mette dritto e solleva la testa quanto corrisponde alla professione che sta per fare di dirsi corretto rispetto del suo errore precedente e certo della verità che gli hanno appena comunicato quindi sta per dire a Beatrice in un modo fisicamente dritto ho capito, grazie ma non fa in tempo a dirlo perché come leggiamo al verso settimo qualcosa distrae la sua attenzione ma visione apparve cioè un'immagine qualcosa che appare alla vista apparve che ritenne a sé me tanto stretto cioè che mi attirò verso di sé così strettamente per vedersi cioè per essere veduta con valore causa finale perché affinché io la potessi vedere che di mia confessione non mi sovvenne cioè che io dimenticai la confessione che stavo per fare scusate chiudo la porta perché miracolosamente si è aperta allora a Dante accade qua una cosa che era già capitata nel purgatorio è che non so se ricordate è un'esperienza sensibile che è la prova della unità dell'anima gli era capitato insomma all'inizio del viaggio purgatoriale nell'incontro con Casella gli capita dopo insomma quando gli spiriti che si sono pentiti in extremis che sono ancora nell'antipurgatorio gli raccontano la storia e lui non percepisce il passare del tempo anche in questo caso lui diciamo viene attratto totalmente da quest'immagine che apparve che non dobbiamo dimenticare corrisponde alle prime anime dei salvati che lui vede in paradiso e che quindi è insomma comprensibile che a Tirino in un modo esclusivo la sua attenzione e quindi non risponde a Beatrice ma anche come poeta passa a descrivere l'aspetto di queste prime anime vi ricordate che Dante e Beatrice sono dentro la luna va bene e dentro la luna vedranno appunto questi spiriti verso decimo quali per vetri trasparenti e tersi ovvero per acque nitide e tranquille non si profonde che i fondi sien persi tornano di nostri visi le postille debilissi che perla in bianca fronte non viene men forte alle nostre pupille tali vidio più facce a parlar pronte allora come attraverso vetri trasparenti e tersi cioè di poca riflessione quindi non attraverso uno specchio come quelli moderni che conosciamo noi e nemmeno come attraverso quello che anticamente rassomigliava di più lo specchio poi Dante si riferisce più volte no quelli che erano quei vetri che avevano una lastra molto sottile di piombo dietro ma per vetri no che riflettono in un modo tenue vuole dire Dante ovvero attraverso acque nitide tranquille no che era l'altro modo di trovare il proprio riflesso non così profonde che vengano persi alla vista i fondi quindi acque la cui altezza non impedisce di vedere il fondo così come tornano dei nostri visi cioè delle nostre facce le postille così deboli le postille è una cosa è un termine di cui si discute tuttora secondo alcune vuol dire i tratti del viso proprio le caratteristiche secondo altri sono le postille nel diciamo il termine tecnico di glosse a un testo sapete che i testi antichi erano diciamo disposti sul sul foglio il testo scritto dall'autore in mezzo e tutte le note attorno se fossero le postille come noi diciamo oggi per esempio il libro di Umberto Eco le postille al nome della rosa se fossero le note si riferirebbe ai contorni del viso sarebbe una una metafora molto audace in cui il viso è proposto come una pagina di un libro vero quindi così come riflesso in modo non del tutto nitido o dall'acqua o da un vetro terzo ci tornano riflessi i nostri visi o nei tratti generali oppure solo i contorni così deboli che le perle non arrivano alle nostre pupille più distintamente quando sono su una fronte bianca i canoni della bellezza medievale volevano le donne pallide e quando si usavano le perle sulla fronte chiaramente non si distinguevano con molta nitidezza dal viso perlaceo contro il quale si distinguevano e allora Dante ci sta dando diversi termini di paragoni per dirci che queste prime anime del paradiso lui le vede non così chiaramente distintamente come invece vedeva i corpi apparenti dei dannati dell'inferno e dei penitenti del purgatorio ma li vedeva come se fossero riflessi in un vetro insomma terzo allora così tali verso 16 tali vidio più facce a parlar pronte cioè con lo stesso aspetto che rende attraverso queste similitudine Dante vede più di un viso più facce disposte a parlare questa parola facce del verso 16 ha fatto capire ad alcuni studiosi che Dante di questi spiriti a differenza di quelli che ha conosciuto negli altri due regni vede solo i visi e non il corpo completo perché infatti degli altri membri del corpo non si dice niente ma è evidente che a Dante hanno attirato l'attenzione queste espressioni di questi visi poco nitidi che vorrebbero parlare con lui e allora siccome ci ha appena detto che questi visi li vede come riflessi al verso 17 aggiunge per chi io dentro all'errore contrario corsi a quel che accese amor tra l'uomo e il fonte per cui io cioè per il fatto che li vedevo come se fossero riflessi corsi nell'errore contrario di quello in cui cadde Narciso cioè quello che accese l'amore tra l'uomo e il fonte dove si rifletteva conoscete immagino il mito di origine ovidiana di Narciso così poi sfruttato per motivi del tutto estranei alla cultura antica questo personaggio che vedendosi riflesso nella fonte confonde l'immagine di sé con un altro essere reale di cui si accende di amore ricambiato chiaramente perché l'immagine è lui stesso e per cui poi insomma vuole unirsi a lui nella fonte allora che vuol dire che Dante cadde nell'errore opposto così come Narciso prende per un un essere vero un'immagine riflessa Dante contrariamente prende immagini che in realtà sono di essenze le prende per riflessi e quindi ora leggiamo al verso 19 che c'è questa spiegazione del suo errore subito siccomio di loro m'accorsi quelle stimando specchiati sembianti per vedere di cui fossero gli occhi torsi e nulla vidi e ritorsi lì avanti dritti nel lume della dolce guida che sorridendo ardea negli occhi santi allora immediatamente non appena io avvertì la loro presenza considerando che quelle quelle facce fossero sembianti specchiati quindi immagini riflessi immagini riflessi torsi gli occhi per vedere di chi fossero cioè Dante si gira per vedere quale faccia vera stesse producendo quel riflesso che secondo lui sono le facce che sta vedendo ma non vede niente no nulla vidi quando Dante si gira e allora torna con gli occhi dritti nella luce degli occhi di Beatrice la dolce guida come domandando che sta succedendo io ho visto delle immagini riflessi quando mi sono girato per vedere di chi fossero non ho visto nessuno e Beatrice che faceva sorrideva e ardeva negli occhi santi certo Beatrice da quando ha trovato Dante ha trovato soprattutto da quando Dante ha confessato i suoi peccati e si è ravveduto dall'inizio del viaggio in paradiso ha trovato più motivi per deridere dolcemente Dante vero perché Dante non fa altro che sbagliare dall'inizio del viaggio in paradiso e questo chiaramente è terapeutico per lui che è così curioso di sapere e comprendere tutto innanzitutto non aveva avvertito di stare volando vi ricordate poi non aveva capito come mai lui avente un corpo fisico stesse attraversando i corpi eterei questi sono i dubbi del primo canto poi ha detto delle cose sbagliate sull'origine delle macchie della luna adesso ha confuso la presenza vera di anime pensando che fossero riflessi quindi Beatrice insomma ha della materia di cui prendere divertimento del povero Dante che chiaramente con la sua ingenuità di mortale non riesce a cogliere l'essenza del paradiso e allora il verso 25 chiarisce a Dante non ti maravigliare perché io sorrida mi disse ha preso il tuo puerilcoto poi sopra il vero ancora lo pieno fida ma te rivolve come sole a voto allora non ti sorprendere del fatto che io sorrida a partire dal tuo pensiero puerile coto è un fiorentinismo no per cogito cioè pensiero visto che il tuo piede ancora non si appoggia sulla verità ma ti fa rivolgerti ti fa girare come suole a vuoto cioè in questo caso Beatrice sta unendo un'immagine metaforica del piede del pensiero di Dante che si allontana siccome non si appoggia sulla verità lo porta altrove in una strada fuorviante sta unendo quest'immagine con quello che è appena accaduto fisicamente che Dante si è girato a vuoto perché non ha visto niente dove pensava che ci fossero le anime e adesso spiega al verso al verso 29 vere sostanze sono ciò che tu vedi cioè sono veramente essenze non riflessi cui rilegate per manco di voto cioè rilegate qua in questo pianeta più basso più vicino alla terra per mancanza di voto cioè per aver interrotto il voto che avevano promesso e questa primissima definizione di Beatrice delle anime del cielo della luna ci fa capire come la luna come pianeta con queste sue macchie con questa apparenza mutevole perché noi vediamo la luna a volte crescente a volte calante cambiando anche posizione rispetto alla nostra visione come si addica particolarmente alla fragilità mutevole di questi personaggi che non hanno mantenuto il voto che avevano promesso per vita e dopo aver fatto questo brevissimo cenno al diciamo alla mancanza del voto di queste anime propone a Dante di parlare con loro al verso 31 però parla con esse odi e credi che la verace luce che le appaga da se non lascia loro torcerli i piedi perciò visto che sono vere essenze parla con loro e odi che cosa ti rispondono e credi cioè credi a quello che ti diranno già che la luce verace che le appaga questo è importante no? perché Beatrice tre versi prima ha detto che queste anime sono rilegate al cielo più basso ma immediatamente chiarisce sempre in un modo molto naturale senza enfatizzare troppo un qualcosa di cui poi Dante domanderà e cioè che queste anime sono appagate dalla luce verace di Dio cioè appagate vuol dire completamente colmate eh allora sta dicendo parla con loro e credi loro quello che ti diranno già che la luce di verità che le appaga non lascia che loro torcano i piedi da sé e cioè qui riprende la metafora dei piedi di Dante no? che a differenza della verità divina si basa sui propri sensi il piede il piede del pensiero di Dante può portare altrove mentre invece i piedi del pensiero delle anime non può allontanarsi dalla verità della luce divina perciò dicono solo la verità e Dante può tranquillamente fidarsi di loro questo chiaramente varrà per l'intero paradiso non solo per le anime di questo cielo il fatto che tutto quello che dicono le anime lo sanno perché vedono in Dio e quindi chiaramente a differenza dei personaggi con cui Dante ha parlato prima non hanno né limiti né errori nei loro pensieri le anime dei salvati allora Dante al verso 34 e io all'ombra che parea più vaga di ragionare drizzammi e cominciai quasi come un uomo cui troppa voglia smaga allora io mi indirizzai verso l'ombra che sembrava più desiderosa di parlare con me di ragionare e cominciai quasi come chi per troppo desiderio perde forze cioè Dante ha molta ansia di parlare per la prima volta con le anime dei salvati e soprattutto con una che sembra dall'aspetto dalla faccia che Dante vede poco nitidamente di voler parlarci e al verso 37 è Dante come personaggio che parla ho ben creato ho ben creato spirito che ai rai di vita eterna la dolcezza senti che non gustata non si intende mai grazioso mi fia se mi contenti del nome tuo e della vostra sorte allora intanto Dante si rivolge a quest'anima con un vocativo del tutto positivo ho ben creato spirito cioè ho spirito creato per raggiungere la salvezza come di fatto l'hai raggiunta che ai raggi di vita eterna senti la dolcezza che se non è provata non la si può capire questo è molto interessante perché Dante qua sta riprendendo un'idea stilnovistica che lui stesso aveva manifestato in un modo celeberrimo nel sonetto tanto gentile tanto onesta pare quando nel riferirsi alla dolcezza che dava Beatrice la Beatrice viva che camminava per le strade di Firenze da una dolcezza al cuore dice lui che intender non la può chi non la prova cioè aveva già detto che la dolcezza che irragiava dalla visione di Beatrice viva non poteva essere descritta a parole ma doveva essere sperimentata in prima persona per capirla qua lui sta attribuendo la stessa qualità alla dolcezza della vita eterna e quindi il lettore memore della vita nuova che Dante vuole che siamo se ha finito la vita nuova dicendo che tacerà finché non potrà scrivere di Beatrice qualcosa che non sia mai stata detta da alcuna e se nel cominciare l'inferno noi abbiamo trovato un riferimento esplicito a Beatrice nel secondo canto dell'inferno noi fin dall'inizio della lettura della commedia ci siamo in qualche modo disposti a leggere la continuazione narrativa della vita nuova e quindi trovando questa espressione che non gustata non si intende mai così simile a questi versi della vita nuova in qualche modo Dante sta integrando quei versi della vita nuova per enfatizzare il fatto che la dolcezza che proveniva dalla visione di Beatrice non era altra che quella divina che si rifletteva in lei donna angelo e che allora nel libro di giovinezza aveva molto audacemente attribuito a una donna di carne e ossa della sua città allora torniamo ai versi della commedia ho spirito creato per la salvezza che senti davanti ai raggi della vita eterna la dolcezza che se non provata nessuno la può capire mi sarebbe motivo di molta gratitudine se tu mi accontenti del tuo nome e della vostra sorte cioè Dante gli domanda chi sei tu cioè le domanda individualmente qual è il suo nome e chiede come al solito chiarimenti sulla condizione generale di tutte le anime che accompagnano questa con la quale ha cominciato il dialogo e al verso 42 finite le parole di Dante ondella pronte con occhi ridenti per cui lei disposta a parlare con occhi ridenti come anche Beatrice cioè con occhi che lucicano perché si accresce in ogni anima la carità nel poter venire incontro ai bisogni di Dante quindi godendo di più si illuminano con maggior intensità risponde al verso 43 la nostra carità non serra porte a giusta voglia se non come quella che vuol simile a sé tutta sua corte allora questa terzina è un modo di iniziare la risposta dicendo certo parlerò con te di quello che vuoi ma come lo dice dice la nostra carità non chiude le porte a un desiderio onesto e quindi sta dicendo che la voglia di Dante di parlare con lei è giusta è accettata dal paradiso se non come quella cioè se non come la carità che vuole la carità di Dio che vuole tutta la sua corte simile a sé cioè Dante in questa sua espressione di voler sapere di voler conoscere l'identità di quest'anime la condizione di tutte le anime della luna ha assimilato straordinariamente la propria volontà alla volontà cosmica che contiene tutte le volontà del paradiso che è un argomento su cui si tornerà cioè il fatto che la carità del paradiso rende identiche le volontà dei salvati a quella di Dio quindi Dante evidentemente in questo volo eccezionale che sta facendo da vivo almeno per ora nella sua volontà di sapere ha diciamo equiparato la sua volontà a quella dei salvati che rientrano nella volontà di Dio e quindi ovviamente tutte le voglie giuste che Dante avrà verranno soddisfatte perché concidono con la volontà divina e quindi al verso 46 comincia quest'anima a presentarsi io fui nel mondo vergine sorella cioè io nel mondo fui suora sorella vergine come vedremo tutte le anime che Dante trova nella luna sono anime di monache e questo è significativo di qualcosa su cui non non ci si sofferma molto spesso voglio dire la critica in genere di questi canti non fa troppa attenzione al valore positivo della luna come influenza perché siccome queste anime ora racconteranno come invece non hanno mantenuto i voti e tutto il canto prossimo verterà appunto sui dubbi che genera in Dante questo fatto ci si sofferma di solito di più sulle manchevolezze di queste anime e quindi sugli effetti negativi che la luna può avere su coloro che nel mondo sono stati insomma dominati da questa stella e tuttavia sembrerebbe che la luna porta alla contemplazione visto che queste anime pur difettuose nei loro voti ebbero tutte questa tendenza ad andare in convento ad allontanarsi dal mondo diciamo secolare e allora quest'anima dice io sono stata vergine sorella e se la mente tua ben se riguarda non mi ti celerà l'essere più bella ma riconoscerai chi son piccarda che posta qui con questi altri beati beata sono in la spera più tarda allora questa dopo aver dichiarato che è stata monaca che evidentemente è la cosa che più le preme di sottolineare poi dice a Dante tu mi conosci guardami bene mi dice e se la tua mente guarda bene in sé cioè se guardi nella tua memoria l'essere più bella perché evidentemente come abbiamo già detto la settimana scorsa la bellezza delle anime del paradiso dipende dalla loro fruizione della bontà divina e quindi non è una bellezza casuale fisica perciò è evidente che qualcuno che in terra era già bello perché aveva questa bontà in sé essendo in paradiso ancora più bello quindi l'anima dice il fatto di essere più bella non mi ti celerà cioè non impedirà che tu mi riconosca ma riconoscerai chi sono Piccarda Piccarda era un'amica di Dante di cui abbiamo avuto modo di parlare quando abbiamo letto i canti dedicati alla gola nel purgatorio vi ricordate che Dante incontra tra i penitenti golosi Forese Donati con il quale intraprende un lungo dialogo e nel canto 24 prima di salutarlo gli domanda dove Piccarda si riferisce e si riferisce chiaramente all'aldilà Dante sa che è morta e domanda a Forese di Piccarda perché Piccarda era la sorella di Forese famiglia importantissima quella dei Donati capi dei Guelfi il grande capo dei Guelfi Neri Corso Donati era il fratello sia di Forese che di Piccarda questo ve lo dico non per diciamo per riempirvi di nomi ma perché da quello che dirà poi Piccarda avremo bisogno di ricostruire un po' la sua vicenda biografica quando Dante domanda a Forese dov'è sua sorella Forese risponde mia sorella che non si sa se è più buona che bella o viceversa e quindi già lui lì nel purgatorio aveva posto allo stesso piano la bontà e la bellezza della sorella aveva detto godi già nell'alto limpo e questo è interessante perché anche questo di solito non lo si dice ma è probabile che Dante vedendo qua Piccarda ricordi questa bella notizia che aveva ricevuto su di lei da parte di Forese e Forese aveva detto che Piccarda era nell'alto limpo valendosi chiaramente di un'immagine pagana per riferirsi metaforicamente all'empireo cioè alla sede altissima dei beati e invece qua la sta vedendo nel cielo più basso nella luna in quello più vicino alla terra e quindi è possibile che tutto il dialogo che poi ha luogo abbia appunto come implicito questo ricordo che Dante ha delle parole di Forese dal quale anche noi abbiamo sentito per la prima volta nel libro il nome di Piccarda allora dice sono Piccarda torno al verso dantesco e al verso 50 che posta qui con questi altri beati cioè che in questa posizione con questi altri membri questo interessante lo vedremo in tutte le anime del paradiso il rapporto comunitario corale che hanno con i loro consorti cioè con coloro che condividono la stessa sorte beata sono nella spera più tarda cioè sono beata vedete come insiste lei nella beatitudine tra questi beati sono beata quindi sto godendo della beatitudine nella sfera più tarda cioè in quella più vicina alla terra e quindi che gira più lentamente perché chiaramente per fare diciamo lo stesso percorso attorno alla terra rispetto agli altri pianeti è ovvio che si muove più lentamente di quelli che debbono invece fare un'orbita di circonferenza maggiore va bene allora al verso cinquantadue continua li nostri affetti che solo infiammati sono nel piacere dello Spirito Santo letizian del suo ordine formati allora i nostri affetti che solo si accendono nel piacere dello Spirito Santo godono cioè letiziano formati nel suo ordine perché Piccarda dice questo ha appena detto che è beata sta probabilmente leggendo nella mente di Dante ah ma Forese mi aveva detto che Piccarda era nell'Alto Limpo ora la vedo nella sfera più tarda e lei si diciamo si affretta a dire che tutte le anime tutti gli affetti del paradiso godono dell'ordine in cui sono stati disposti da Dio e quindi in qualche modo sta anticipando una cosa che Dante appunto ora le chiederà e cioè se lei preferirebbe essere più in alto rispetto a dov'è e quindi più vicina a Dio al verso cinquantacinque continua Piccarda è questa sorte che par giucco tanto però ne è data perché fornegletti li nostri voti e voti in altro canto in alcun canto allora questa sorte che appare così bassa questo par è molto importante sapete che questo verbo apparire in italiano antico più che sembrare come magari oggi significa uno oggi usa il verbo apparire e anche il verbo parire quasi come sinonimi a volte in contrasto con essere mentre invece nell'italiano antico apparire era più manifestare un'essenza che è ma in alcuni casi voleva dire apparire vedersi in questo caso par del verso cinquantacinque tecnico perché come abbiamo detto nella lezione di introduzione non so se vi ricordate nella realtà del paradiso tutte le anime sono nell'empireo Dante le vede distribuite nei diversi cieli perché si dispongono così per riceverlo in modo da rendere comprensibile a un mortale che solo può costruire pensiero a partire dai sensi il loro diverso grado di beatitudine quindi in realtà non è che noi oggi alziamo gli occhi vediamo la luna diciamo pensare che lì è Piccarda no non è lì Piccarda Piccarda è nel non luogo in questo cielo che è puro amore intelletto che è l'empireo è scesa nel pianeta che più l'ha influenzata in vita affinché Dante capisse non solo questa influenza ma anche il fatto che la sua beatitudine è meno intensa di quelle delle anime che lui vedrà nei cieli superiori tutto questo verrà spiegato esplicitamente nel canto quarto eh io lo sto anticipando affinché voi possiate cogliere quanto Dante sia preciso e perfetto nella scelta delle parole eh perché il par permette che Dante prima capisca una cosa ma poi quando capisce la verità e torna a pensare o noi come lettori torniamo a leggere vediamo nessuno ci ha mentito nessuno ci ha detto che Piccarda sarà sempre lì la condizione di queste anime appaiono così giù dice no è questa sorte che par giù tanto che sembra così che appare alla vista così basso per questo ci è data è come se qui ci fossero due punti perché furono trascurati dimenticati i nostri voti e in qualche aspetto in alcun canto vuoti e cioè noi godiamo di un grado meno intenso di contemplazione perché abbiamo mancato i nostri voti cioè non li abbiamo sostenuti prima gli ha detto sono stata vergine sorella da questa confessione capiamo che non è morta in convento e al verso 58 finite le parole di Piccarda Dante risponde prima in un modo garbato educato quasi chiedendo scusa di non averla riconosciuta subito vi ricordate che lei ha detto se ricordi bene il fatto che io sia più bella non ti impedirà di riconoscermi e allora lui al verso 58 aggiunge a quest'idea di lei ondio a lei nei mirabili aspetti vostri risplende non so che divino che vi trasmuta dai primi concetti però non fui a rimembrar festino ma ormai aiuta a ciò che tu mi dici sì che raffigurare ma è più latino allora nei vostri aspetti miracolosi ammirevoli risplende un non so che divino che vi modifica vi trasforma dai primi concetti cioè da quello che io avevo concepito della tua immagine nel mondo perciò non fui festino veloce a rimembrare a recuperare la tua immagine ma ora mi aiuta quello che tu mi dici in modo che raffigurarti mi è più facile latino in Dante sta per facile nonostante la grande difficoltà che ha il latino per noi moderni quando lui dice parla latino vuol dire parla in un modo comprensibile e allora gli sta dicendo che adesso io ti posso raffigurare cioè Dante chiaramente ciò che sta facendo è unendo il primo concetto che aveva di lei la memoria che aveva di lei con la nuova bellezza che ha acquisito ormai salvata e sta cercando di integrare questa nuova immagine di Peccarda con quella che ne aveva lui per ricordare chi era questo è molto interessante perché in qualche modo rende questa contiguità importantissima che c'è in tutta la Divina Commedia tra la vita nel mondo e la vita nell'aldilà per cui i personaggi veramente integrano e definiscono per sempre chi sono solo nell'aldilà essendoci prima nella prima vita chiaramente delle condizioni comprensibili poi quando si realizzano su questo ha lavorato molto Auerbach cioè sul realismo figurale sul fatto che la vita eterna definisca per sempre ciò che era in ombra come figura nella vita del mondo allora dopo aver detto questa cosa educata non ti avevo riconosciuto per il divino che c'è adesso in te al verso 64 fa il suo solito ma dimmi no che ha fatto sempre fin dall'incontro con Francesca che è la prima anima con la quale ha parlato quella volta nell'inferno ha sempre usato questo ma non come avversativo bensì come una sorta di connettore che vuol dire mandiamo ad un'altra cosa ma dimmi voi che siete qui felici desiderate voi più alto loco per più vedere per più farvi amici allora dimmi voi qui sta domandando sulla condizione generale di queste anime non solo di Piccarda voi che siete felici qui è sottointeso nel cielo più basso desiderate avere un luogo più alto per godere di una contemplazione maggiore cioè per vedere più e per farvi più intimi più amici di Dio e allora al verso 67 di nuovo tutte le anime sorridono della poca espertizia di Dante in questi in questi argomenti con con quelle altre ombre Priya sorrisi un poco tutte sorridono un po' della dell'errore che è implicito nella domanda di Dante da Indi mi rispose tanto lieta che arder parea d'amor nel primo fuoco allora dopo aver sorriso un po' mi rispose con tanta felicità che sembrava ardere nell'amore dello spirito santo il primo fuoco vedete che le anime questa è una cosa che vedremo lungo tutto il paradiso dantesco le anime che sono già chiaramente del tutto appagate nei loro desideri ciò nonostante quando possono aiutare Dante a capire delle cose che non capisce si illuminano di più il che manifesta una maggior felicità una maggior carità e questo è di nuovo una grande novità del paradiso dantesco e cioè che il viaggio stesso di Dante in qualche modo almeno circostanzialmente modifica la condizione dei salvati e accresce la loro carità perché appunto loro potendo aiutare Dante e attraverso Dante il mondo che leggerà il suo libro sono più felici perché crescono in carità e allora al verso settanta spiega Piccarda a Dante frate la nostra volontà quieta virtù di carità che fa volerne sol quel che avemo e d'altro non ci asseda ma qui dice una cosa importantissima Piccarda dice fratello la virtù di carità che è il soggetto di quieta la nostra volontà è l'oggetto la virtù di carità a quieta cioè mette in calma la nostra volontà che ci fa volere cioè fa sì che noi vogliamo solo quel che abbiamo e di altro non ci dà sete questa è una condizione di tutte le anime dei salvati cioè il fatto che la carità divina li rende del tutto consoni nei loro desideri con quello che hanno effettivamente è una condizione del tutto incomprensibile per noi perché è un desiderio tutto resistente ma appagato cioè noi al mondo desideriamo le cose che non abbiamo cioè il desiderio implica per forza la mancanza di qualcosa tra di noi nel mondo sublunare nel paradiso si desidera quello che si ha e quindi la volontà è del tutto appagata ma non per questo scompare questo è quello che è incomprensibile per noi ma è volontà di Dante che non lo capiamo chiaramente e al verso 73 torna Piccarda alla domanda di Dante prima ha dato una regola generale ma Dante ha domandato voi che siete in questo cielo più basso desiderate essere più in alto e lei dice la carità ci appaga totalmente nei nostri desideri ci fa volere solo quello che abbiamo e al verso 73 se disiassimo essere più superne cioè se noi desiderassimo di essere più in alto come tu hai detto foran discordi i nostri desiri dal voler di colui che qui ne cerne cioè sarebbero discordi i nostri desideri dal volere di Dio che ci distribuisce in quest'ordine il che vedrai che non ha luogo in questi giri cioè la discordia tra il volere divino e il nostro volere se essere in carità e qui ne cesse e se la sua natura ben rimiri cioè se qui è necessario cioè è proprio essenziale l'essere in carità e prima aveva detto che la carità fa sì che le loro volontà coincidano con quello che hanno e se la sua natura quella della carità la riguardi bene che io te l'ho appena detto la carità acquieta le nostre voglie facendole coincidere con quello che abbiamo se noi desiderassimo non essere qua nella luna ma essere per esempio in Saturno staremmo desiderando qualcosa che non abbiamo e saremmo fuori dalla carità ma la carità è essenziale al paradiso c'è sempre necessariamente e aggiunge al verso settantanove anzi è formale ad esto beato esse tenersi dentro alla divina voglia percuna fansi nostre voglie stesse allora anzi è costitutivo di questo essere beati mantenersi dentro la divina voglia la voglia di Dio per cui tutte le nostre voglie se ne fanno una nella coincidenza con la volontà divina sicché come noi siamo di soglia in soglia per questo regno a tutto il regno piace come all'ore che in suo volerni voglia in modo che se noi siamo distribuiti di cielo in cielo di soglia in soglia attraverso il paradiso questo regno questo piace a tutto il regno a tutte le anime del paradiso come piace a Dio cioè a il re che ci invoglia nella sua voglia cioè include nel suo volere tutti i nostri voleri rendendoli uno e quindi tutti noi vogliamo quello che abbiamo è sottointeso anche se sappiamo che abbiamo alcuni meno di altri ma noi non desideriamo avere altro rispetto a quello che abbiamo e la sua volontà è nostra pace l è quel mare al qual tutto si muove ciò che la cria o che natura facce e nella sua volontà la volontà del re no che ha nominato prima cioè la volontà divina è la nostra pace e qui Piccarda ha aggiunto un'idea importantissima e bellissima che è quella della pace finora ha parlato molto della volontà e infatti ha detto molte volte la parola volere la parola voglia ha giocato anche etimologicamente con il verbo invogliare e quindi stava parlando del desiderio che è del tutto appagato nel paradiso ma ora ha aggiunto la pace la pace quello che si desidera vero nella liturgia quello che ci desideriamo quello che un mondo come come era il mondo medievale era rarissimo cioè era un mondo che viveva in guerra continuamente in continuazione la pace dice Piccarda la nostra pace è nella sua volontà cioè nell'abbandono supremo alla volontà del padre per rendere per comprensibile questa pace a noi vi do un esempio che finora a me è stato utile per capirlo cioè teniamo presente questo Piccarda sa di essere lei stessa l'ha detto nella sfera più tarda cioè in quella che gode meno intensamente della contemplazione di Dio e sta dichiarando con veemenza che non desidera avere più di quello che ha e che anzi la sua pace è quella di tutto il paradiso sta nell'accettare la volontà del padre senza rassegnarsi ma volendo quello che vuole il padre è la pace di un bambino che non conosce del tutto il proprio bene ma si fida che il padre lo sa e quindi si abbandona abbandona la propria volontà in quella del padre sapendo che sarà il proprio bene questa è la condizione dei salvati che non si ribellano contro la propria sorte e non è che si rassegnino o che tollerino la la minore beatitudine ma che godono nella propria limitatezza perché permette loro di non dover fare alcuno sforzo di comprensione implica l'abbandono di desiderare quello che desidera Dio e che è una condizione almeno parzialmente raggiungibile al mondo a differenza di quella che dicevo prima incomprensibile desiderare qualcosa che si ha desiderare quello che si ha è qualcosa di inconcepibile per noi che associamo necessariamente il desiderio alla mancanza ma questo si è comprensibile ed evidentemente Dante ha voluto che lo concepissimo come qualcosa che almeno imperfettamente possiamo ottenere nel mondo perché così lui ha definito nel primo canto dell'inferno il suo rapporto con Virgilio quando nel secondo scusate dopo la prima crisi del viaggio non a caso quando Dante aveva dubitato della propria dignità della propria capacità di fare il viaggio nell'aldilà e Virgilio gli aveva appena risposto facendo un flashback raccontandogli della discesa di Beatrice nell'inferno e quindi lo aveva rassicurato del fatto che il suo viaggio era voluto da Dio e che lui stesso Virgilio era uno strumento di Dio che gli aveva che gli ha detto Dante in quel momento or va che un sol volere è d'ambe due cioè Dante in quel momento aveva abbandonato la propria volontà mettendosi nelle mani del maestro sapendo che il maestro avrebbe fatto il suo bene perché era mandato da Dio allora dopo aver dichiarato questo Piccarda aggiunge al verso 86 l'è quel mare al qual tutto si muove ciò che la crio che natura face ella cioè la volontà divina è quel mare nel quale si muove tutto ciò che è creato direttamente da Dio o quello che la natura fa continuando la creazione diretta di Dio vi ricordate che Beatrice nel primo canto dell'inferno aveva appunto parlato di quel gran mar dell'essere nel quale ogni creatura si muove verso il porto della propria felicità seguendo il proprio istinto ora sappiamo che quel grande mare è la volontà di Dio vi propongo di fare la pausa ora facciamo come al solito i nostri cinque minuti durante i quali vi prego di mandarmi i vostri dubbi alla chat grazie a dopo allora riprendiamo se siete d'accordo qualcuno ha inviato non una domanda bensì un commento arrabbiato ma che diciamo non che riguarda il fatto che non che queste anime mancarono i voti non per volontà propria bensì per volontà altrui di questo ora ci occuperemo perché in realtà non è ancora apparso sul testo e sarà oggetto appunto di diversi dubbi di Dante nel canto prossimo allora al verso 88 dopo che ha parlato Piccarda che in linea di massima ha risposto vi ricordate alla domanda di Dante sul fatto se loro che sono nel cielo più basso desiderassero di essere più in alto Piccarda ha molto chiaramente detto di no che non desiderano niente nessun'anima del paradiso desidera di avere una condizione diversa da quella che ha perché conforma la propria volontà a quella del padre per carità e al verso 88 Dante riprende come poeta chiaro mi fu allora come ogni dove in cielo è paradiso nonostante la grazia del sommo bene errori in un modo diverso da una parte all'altra vedo che nel frattempo è arrivata un'altra cosa no è una domanda di Alice no giovedì prossimo non c'è lezione perché è giovedì santo quindi saltiamo e ci rivediamo il 21 allora Dante dice ho capito grazie a questa risposta di Piccarda che il paradiso è in tutti questi luoghi dove lui vedrà le anime nonostante il bene di Dio non piova non irrori nello stesso modo tutte le anime ma come al solito Dante ha un altro dubbio al verso 91 ma siccome lì avviene penso un cibo sazio ed un altro rimane ancora la gola che quel si chere di quel si ringrazia così feci io con atto e con parola per apprendere da lei qual fu la tela onde non trassin fino a colla scuola allora ma come capita quando uno è già saziato di un cibo che ha mangiato ma rimane ancora la volontà di mangiarne un altro che allora uno chiede di quell'altro e si ringrazia di quello di cui è già sazio così feci io con atto e con parola quindi Dante manifesta di questo cibo cioè di questa domanda sono sazio ma ne un'altra di domande e quindi Dante esprime che vuole sapere quale fu la tela diciamo lo fa una metafora no a proposito del voto lei aveva detto i nostri voti insomma non sono stati portati a termine e Dante lo dice con questa immagine quale fu la tela dalla quale fu incompiuto quindi non portato a co a capo il tessuto e allora qui Piccarda per riferirsi alla sua vita monacale interrotta prima si riferisce all'ordine al quale apparteneva che erano le Clarisse attraverso la menzione appunto la allusione a Santa Clara d'Assisi questa seguace di San Francesco che aveva fondato nel 1111 l'ordine delle Clarisse è che appunto lei seguì come ora racconterà quindi al verso 97 è sempre Piccarda che parla perfetta vita e alto merto in c'è la donna più su mi disse alla cui norma nel vostro mondo giù si veste vela allora una vita perfetta è come se sottointendesse a differenza della nostra il suo alto merito in cela a una donna più in alto cioè la una donna di vita perfetta e alto merito è in un cielo più in alto più su una donna la cui regola norma nel vostro mondo giù si veste l'abito e si mette il velo monacale perché fino al morir si veghi e dorma con quello sposo che ogni voto accetta che caritate a suo piacere conforma cioè affinché una donna più in alto che Santa Clara c'è una donna in un cielo più alto che Santa Chiara secondo la cui regola nel vostro mondo ci si veste e si mette il velo delle monache affinché fino alla morte giorno e notte cioè si veghi e si dorma con Cristo cioè quello sposo che accetta ogni voto che si conforma alla carità e cioè al piacere di Dio e questo questi versi annunciano una polemica che ci sarà nel canto prossimo da parte di Beatrice contro coloro che fanno i voti un po' a casaccio come avvertendo che a Cristo non piacciono tutti i voti ma solo quelli che si conformano alla carità allora ha parlato di Santa Clara che aveva fondato un ordine e adesso passa a parlare di sé di nuovo al verso 103 Piccarda dal mondo per seguirla giovinetta fuggimmi e nel suo abito mi chiusi e promisi la via della sua setta cioè io per seguirla giovinetta io fuggì dal mondo e mi chiuse nel suo abito e promisi la via della sua comunità e quindi andai in un convento diciamo delle Clarisse e al verso questa è la parte che lei in un certo qual modo aveva già detto avendo detto che era stata vergine sorella ora passerà a dire quello che Dante appunto gli ha domandato com'è che il voto non è non si è compiuto uomini poi a mal più che a bene usi formi rapiron della dolce chiostra iddio si sa qual poi mi vita fusi allora qua vedete con quanta delicatezza Piccarda si riferisce ai suoi rattori quello che era capitato era che il fratello di Piccarda e di Forese Corso Donati il capo Guelfo Nero grande avversario di Dante quello che gli causò l'esilio aveva mandato rapire appunto la sorella dal convento per darla come sposa a un altro uomo di potere della stessa fazione Rossellino della Tosa per cui insomma la vendette diciamo la sorella e quindi contro la sua volontà Piccarda fu rapita dal convento secondo i commentatori antichi che seguono chiaramente una leggenda orale Piccarda morì subito e tornò come dicono appunto i commentatori allo sposo che lei stessa aveva scelto e tuttavia qua si dice un'altra cosa no? perché leggiamo con attenzione il verso 106 uomini uomini poi senza nominare senza accusare a mal più che a bene osi quindi accostumati più al male che al bene sola mite accusa diciamo di Piccarda ai suoi rapitori mi rapirono fuori dalla dolce chiostra Dio sa come fu poi la mia vita quindi chiaramente non ebbe solo un'agonia una volta rapita ma feci una vita fuori dal convento ma vedete con quale dolcezza Piccarda non si vittimizza non non dà dettagli della sua sofferenza ma lascia che solo Dio sappia come fu la sua vita fuori dal convento ma affinché noi sappiamo come fu la sua vita fuori dal convento a partire dal verso 109 Piccarda parlerà di un'altra anima che è sempre lì con lei nella luna di cui si dirà come ha continuato a vivere dopo il rapimento e quindi possiamo chiaramente associare quello che dirà ora di questo personaggio a lei stessa che pudorosamente non ha voluto entrare nei particolari al verso 109 e quest'altro splendor che ti si mostra dalla mia destra parte e che si accende di tutto il lume della sfera nostra ciò che io dico di me di sé intende allora quest'altro splendore quest'altra anima che tu vedi che è dalla mia destra e che si illumina di tutta la luce della nostra sfera cioè della luna questo è interessante perché ci fa vedere che oltre a questa gerarchia della beatitudine che Dante ci presenta attraverso la presenza delle anime nei diversi cieli dei pianeti anche all'interno di ogni pianeta e quindi di ogni classe ci sono degli individui Piccarda qua in qualche modo annuncia che l'altra si illumina di più di lei della luce della luna di quella dice quello che io dico di me può intenderlo di lei quindi vale anche per lei quindi anche lei è stata vergine sorella e anche lei è stata rapita quindi ora continua al verso centotredici sorella fu e così le fu tolta di capo l'ombre delle sacre bende cioè anche lei fu suora e così cioè per la forza come anche è capitato a me gli furono tolte le sacre bende dal capo che era appunto l'abito del convento ma vedete che ora Piccarda destinerà la prossima terzina a dire come continuò la vita di questo personaggio dopo il rapimento il che di se stessa non l'aveva detto perché probabilmente sarebbe stato un vanto se l'avesse detto di sé al verso centoquattordici ma poi che pur al mondo fu rivolta contro suo grado e contro buona usanza non fu dal vel del cuore già mai disciolta allora ma dopo che fu diciamo costretta a tornare al mondo contro la sua volontà e contro la buona educazione non fu mai disciolta dal velo del cuore e cioè gli hanno strappato il velo fisico dell'abito ma il velo nel cuore lo mantenne sempre e quindi potremmo desumere visto che lei stessa ha detto che quello che si dice di una si può dire dell'altra che anche lei fino alla morte mantenne fedeltà interiore con il cuore al al voto e dopo aver detto questo di quest'altra anima al verso 118 la presenta con il nome questa è la luce della gran costanza che del secondo vento di suave generò il terzo e l'ultima possanza allora qui sta diciamo presentando costanza d'altavilla la madre di Federico secondo di Svevia che nella visione di Dante è l'ultimo imperatore che veramente meritò questo nome qui all'uso attraverso terzo e ultima possanza il terzo vento della casa di Svevia la terza potenza degli Svevi è l'ultima perché con con suo figlio morì insomma la potenza Sveva in Italia e per Dante l'imperatore anche se germanico per essere tale doveva farsi incolonare dal papa e quindi scendere in Italia e questo l'ultimo che l'aveva fatto quando Dante diciamo vive a Firenze almeno è Federico secondo appunto allora Costanza d'Altaville in realtà dalla documentazione di cui ci possiamo valere oggi non è mai stata monaca ma c'era una leggenda di origine guelfa che Dante evidentemente qua segue secondo cui era stata monaca e aveva concepito Federico ormai smonacata e vecchia il che appoggiava questa visione di Federico secondo come una sorta di anticristo e quindi Dante comunque qua la cosa interessante è che sebbene accolga questa leggenda secondo cui Costanza era stata monaca in qualche modo mitiga la diciamo la il carattere satanico di questo concepimento visto che non ha lasciato lei il convento ma l'hanno rapita sì qualcuno mi domanda sì la donna la moglie di Dante era parente di tutti questi era una famiglia importante con molti componenti infatti allora qui la presenta come questa è la luce della gran Costanza che da suo marito Enrico VI di Svevia il secondo vento il primo era Federico Barbarossa Genero il terzo e l'ultimo cioè Federico II di Svevia quindi presenta con nome quella di cui aveva parlato prima in qualche modo per renderla insomma analoga a a sé alla propria storia e finite queste parole svanisce lei qui veramente questa terzina che leggo ora è tra le più belle della commedia è una cosa che uno non si stanca mai di dirla ridirla intuendo qualcosa che gli sfugge perché è di una bellezza davvero misteriosa così parlò e poi cominciò Ave Maria cantando e cantando vanio come per acqua cupa cosa grave cioè così mi parlò Piccarda e poi cominciò a cantare Ave Maria ma vedete come attraverso questo questo si protrae la musica del primo verso al secondo cominciò Ave Maria cantando e cantando vanio attraverso questo chiasmo e cantando svanì questo chiasmo dicevo dove cantando divide il verso che già anticipa questo suono velare cantando e cantando che si ripete nell'alliterazione del verso 123 come per acqua cupa cosa grave è una meraviglia veramente intraducibile di queste dolcezze che non si possono intenderse non si provano tra l'altro vedete come quest'immagine questa nuova similitudine in cui lei scompare poi noi andando avanti nella lettura capiremo che lei probabilmente quello che ha fatto è salire di nuovo all'empirio dopo aver parlato con Dante ma Dante come pellegrino non ha ancora l'informazione necessaria per capire questo solo vede che lei diciamo scompare si allontana da lui e l'analogia che fa è come una cosa pesante cade in un'acqua poco nitida vedete come riprende attraverso quest'ultima similitudine la stessa immagine di cui si era valso all'inizio dell'incontro con queste anime per esprimere la poca nitidezza con la quale aveva visto le anime come quando il nostro viso torna da acque nitide tranquille vero? e allora Dante insegue lei con lo sguardo affinché può verso 124 la vista mia che tanto lei seguìo quanto possibile fu poiché la perse volselsi al segno di maggior disio e a Beatrice tutta si converse questa è una cosa che Dante diciamo farà in tutto il paradiso cioè dopo aver parlato con un'anima quando non c'è più informazione o perché queste anime hanno finito di parlare oppure perché se ne vanno Dante torna con lo sguardo a Beatrice vero? quindi la vista mia che seguì lei tanto quanto fu possibile una volta che la perse cioè che non la vedeva più per la distanza si volse al bersaglio di desiderio maggiore cioè Beatrice e si converse del tutto a Beatrice si abbandonò del tutto a Beatrice ma quella folgorò nel mio sguardo sì che da prima il viso non soffersse e ciò mi fece a dimandare più tardo evidentemente Dante ha un dubbio di nuovo che vi anticipo è lo stesso dubbio che qualcuno ha espresso nella chat cioè ma perché queste anime sono rilegate così in basso se non hanno deciso loro di abbandonare i voti ma sono state costrette a farlo ma quando Dante vuole domandare questo a Beatrice lei è così folgoriggiante nello sguardo mortale e quindi limitato di Dante che la vista di Dante non lo può reggere e quindi lo fece aspettare per domandare quindi anche noi dobbiamo aspettare al canto quarto che io prima per sbaglio adesso mi ha fatto ricordare Alice che la settimana prossima è giovedì santo quindi tra due settimane leggeremo il dubbio anzi dubbi che verranno a Dante a proposito di questo incontro con le prime anime dei salvati tutte donne non so se avete notato che fin dal momento in cui Virgilio si è congedato dichiarando Dante padrone di se stesso ha visto solo donne Dante nel paradiso terrestre ha visto le sette ninfe che rappresentano le virtù ha visto Matelda ha visto ovviamente Beatrice ora salendo anche in paradiso è accolto da donne soltanto quelle che con cui e di cui ha parlato nel primo cielo avete qualche dubbio che volete pure no allora lo rileggiamo e ci salutiamo fino al 21 quel sol che pria d'amor mi scaldò il petto di bella verità mi avea scoverto provando e riprovando il dolce aspetto e io per confessar corretto e certo me stesso tanto quanto si convenne levai il capo a proferer più erto ma visione apparve che li tenne a sé me tanto stretto per vedersi che di mia confessione non mi sovvenne quali per vetri trasparenti e tersi ovver per acque nitide tranquille non si profonde che i fondi sien persi tornano di nostri visi le postille debilissi che per la in bianca fronte non viene men forte alle nostre pubille tali vi dio più faccia a parlar pronte perché io dentro all'error contrario corsi a quel che accese amor tra l'uomo e il fonte subito si comino di lor maccorsi quelle stimando specchiati sembianti per veder di cui fosser gli occhi torsi e non la vidi e ritorsili avanti dritti nel lume della dolce guida che sorridendo ardea negli occhi santi non ti meravigliar perché io sorrida mi disse appresso il tuo pueri il coto poi sopri il vero ancora a te rivolve come suole a vuoto vere sostanze sono ciò che tu vedi qui rilegate per manco di vuoto però parla con esse odi e credi che la vera luce che le appaga che la verace luce che le appaga da se non lascia lor torcerli i piedi e io all'ombra che parea più vaga di ragionare drizzammi cominciai quasi come un uomo cui troppa voglia smaga ho ben creato spirito che ai rai di vita eterna la dolcezza senti che non gustata non si intende mai grazioso mi fia se mi contenti del nome tuo e della vostra sorte ondella pronte con gli occhi ridenti la nostra carità non serra porta a giusta voglia se non come quella che vuol simile a sé tutta sua corte i fui nel mondo vergine sorella e se la mente tua ben se riguarda non mi ti celerà l'essere più bella ma riconoscerai chi son piccarda che posta qui con questi altri beati beata sono in la spera più tarda i nostri affetti che solo infiammati sono nel piacere dello spirito santo letizian del suo ordine formati e questa sorte che par giuco tanto però ne è data perché for negletti i nostri voti e voti in alcun canto un dio a lei nei mirabili aspetti i vostri risplende non so che divino che vi trasmuta dai primi concetti però non fui a rimembrar festino ma ormai aiuta a ciò che tu mi dici si che raffigurar mi è più latino ma dimmi voi che siete qui felici desiderate voi più alto loco per più vedere per più farvi amici con quelle altronde pria sorrise un poco da indi mi rispose tanto lieta che arder pare ad amore nel primo fuoco frate la nostra volontà quieta virtù di carità che fa volerne sol quel che ave e d'altro non ci asseda se disiassimo esser più superne foran discordi li nostri disiri dal voler di colui che qui ne cerne che vedrai non capire in questi giri se esseri in carità e qui ne cesse e se la sua natura ben rimiri anzi è formale esto beato esse tenersi dentro alla divina voglia percuna fan si nostre voglie stesse sicché come noi sem di soglia in soglia per questo regno a tutto il regno piace come allora è che in suo volerni voglia e la sua volontade è nostra pace è l'è quel mare qual tutto si muove ciò che la cria o che natura facce chiaro mi fu allor come ogni dove in cielo e paradiso ezzi la grazia del sommo ben d'un modo non vi piove ma siccome gli avvien su un cibo sazia ed un altro rimane ancora la gola che quel si chere di quel si ringrazia così feci io con atto e con parola per apprendere da lei qual fu la tela onde non trassin fino a co la scuola perfetta vita e alto mert in c'è la donna più sumidisse alla cui norma nel vostro mondo giù si veste vela perché fino al morirsi veghi e dorma con quello sposo che ogni voto accetta che caritate a suo piacere conforma dal mondo per seguirla giovinetta fuggimi nel suo abito mi chiusi e promisi la via della sua setta poi a mal che più a bene usi formi rapiron della dolce chiostra e Dio si sa qual poi mia vita fusi e quest'altro splendor che ti si mostra dalla mia destra parte che si accende di tutto il lume della sfera nostra ciò che io dico di me disse intende sorella fu e così le fu tolta di capo l'ombra delle sacre bende ma poi che pur al mondo fu rivolta contra suo grado e contra buona usanza non fu dal vel del cor giammai disciolta questa è la luce della che del secondo vento di soave generò il terzo e l'ultima possanza così parlò mi e poi cominciò ave Maria cantando e cantando vanio come per acqua copa cosa grave la vista mia che tanto lei seguì o quanto possibile fu poiché la perse volse si al segno di maggior disio e a Beatrice tutta si converse ma quella folgorò nel mio sguardo sicché da prima il viso non soffersse e ciò mi fece a dimandare più tardo grazie dell'attenzione auguri di buona Pasqua ci vediamo tra due settimane